Insomma avrei... Sì, dici pure, non aver timore. Siamo tutti con te in questo momento. Vedi, lui è il mio ragazzo, è un po' timido. E ha qualche problemino. Beh, insomma, nei momenti di intimità non sempre funziona. Problema tantrico, capisco. Ecco, il fiore del loto. Dal fango rinasce un fiore meraviglioso. E tu? Qual è il tuo problema? Io... Conite. Capisco.